E' molto bello vedere quanto dinamismo e quanta voglia di innovazione c'è nella nostra regione, quindi è stata un'esperienza per noi sicuramente molto nutriente. Nelle scorse ore grande festa per la quinta edizione del Premio Innovazione Toscana giunto alla sua quinta edizione. Nove le aziende premiate nelle diverse categorie a cui si aggiunge anche una menzione speciale. Un premio, ricordiamo questo, che porta come obiettivo alla promozione di idee ed esperienze imprenditoriali di successo per il rafforzamento delle radici e delle filiere locali. E' andata davvero molto bene perché fa raggiungere al Premio Innovazione Toscana questa quinta edizione dei numeri entusiasmanti. con i quali abbiamo portato alla luce oltre 270 progetti in 5 edizioni abbiamo premiato 45 imprese e start-up innovative abbiamo coinvolto all'interno di 5 commissioni di elevato livello che hanno giudicato i progetti, oltre 30 giudici tra Accademia e Industria. Un'edizione davvero entusiasmante che ha portato alla luce progetti di estrema qualità e soprattutto di importanza per il futuro, che è un futuro incerto in questo momento e progetti che vedono al loro interno tematiche straordinarie come l'innovazione, la digitalizzazione, la tecnologia e soprattutto la transizione ecologica ed energetica e quindi rendono l'idea di quanto la Toscana sia capace di essere terra di innovazione dove l'innovazione davvero può attecchire e crescere e svilupparsi. Da citare che nella categoria premio transizione ecologica ed energetica ha vinto il progetto della Moivus SRL di Livorno, davanti a quello dell'antiche mura SRL di Empoli. Il progetto con cui abbiamo partecipato sono i dentifrici in compressa sono un nuovo approccio alla detersione dei denti perché sono dentifrici senza acqua, waterless. In pratica sono delle piccole compresse che vengono schiacciate fra i denti che si trasformano in dentifricio vero e proprio e quindi per noi è un nuovo modo di approcciarsi ad un mondo sempre più sostenibile. Fra gli altri premiati poi citiamo anche Next Generation Robotics SRL di Pisa che riceve l'onoreficenza per le start-up innovative. Il progetto consta sostanzialmente di un robot per l'ispezione del sottocasso dei treni, quindi ispezione remota, è possibile effettuare questa ispezione tramite questo dispositivo senza la necessità di binari sopraelevati e quindi di portare il treno negli impianti di manutenzione. Il robot può andare su qualsiasi binario e effettuare l'ispezione digitalizzando tutto il materiale visionato e poi è in grado chiaramente tramite il sistema di intelligenza artificiale andare a rilevare potenziali guasti e muoversi quindi verso un tipo di manutenzione predittiva. Un premio questo dedicato all'innovazione toscana voluto, afferma il presidente del Consiglio regionale Mazzeo. Una di quelle iniziative da ripetere, mandare un messaggio forte, potente alle ragazze e ai ragazzi che noi ci siamo, che la regione cammina al loro fianco, al fianco di chi scommette sul futuro, al fianco di chi costruisce innovazione. Lo vado ripetendo da un po' di tempo. Noi viviamo in una regione dalla bellezza unica, di arte, di storia, di cultura le cui radici profonde rendono una delle regioni più belle al mondo ma noi siamo anche una regione terra di scienza, di ricerca e allora compito dell'istituzione è mandare questo messaggio potentissimo o noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso, di costruirlo o noi rischiamo di subirlo. Allora, grazie alle tante ricercatrici, ai tanti ricercatori, alle imprenditrici, agli imprenditori che oggi sono qui, noi riusciamo a costruire una Toscana più bella che può guardare con speranza e ottimismo al futuro. Investire sui giovani, investire sulla ricerca, vuol dire investire sul futuro ed è quello che noi vogliamo portare avanti. A Palazzo del Pegaso, nella Sala Fanfani, presentato il libro di Matteo Grasso Guerra totale in Valdinievole, Monsummano Terme tra occupazione nazista, resistenza e liberazione 1943-1944, volume che racchiude in sé i ricordi della liberazione dal nazifascismo e dell'anno che la precedette. Il libro Guerra totale in Valdinievole è stato pubblicato nel 2021 dalla casa editrice dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Pistoia. È un libro che parla della resistenza, della liberazione e dell'occupazione tedesca in un piccolo angolo della Valdinievole, precisamente Monsummano Terme, fra 1943 e 1944. Nello specifico la mia ricerca si è basata prevalentemente su fonti archivistiche, su fonti orali, ho intervistato tantissimi testimoni del periodo, persone superstite alla strage dell'Ecidio del Padule di Fucecchio e coniugando queste fonti con altre bibliografiche giornalistiche sono riuscito a ricostruire una sintesi di quanto è avvenuto a Monsummano in quel periodo storico. Alcune considerazioni particolari, ho affrontato il tema dell'Ecidio del Padule di Fucecchio, dove trovarono la morte 174 persone per mano tedesca nel 23 agosto del 1944. Ho affrontato il tema dell'arresto e della deportazione degli ebrei monsummanesi, vennero arrestati anche dei bambini della famiglia Melli, trasferiti in carcere, poi deportati ad Auschwitz dove morirono. Ho parlato della resistenza sul territorio, delle bande monsummanesi che si formarono, bande comuniste, bande di giustizia e libertà e infine della liberazione del paese, il 4 settembre del 1944. Alla presentazione anche l'intervento del consigliere regionale Marco Nicolai, che sottolinea l'importanza di questo volume. Questo volume ha il merito di dare a queste storie il giusto rilievo, la giusta dignità, dandoci il conto di come appunto la resistenza sul territorio della Valdinievole fu un fatto diffuso e che dette seguito anche a tutta una serie di azioni che portarono poi successivamente alla liberazione del nostro territorio. Quindi grazie a Matteo Grasso per questo lavoro così approfondito e che dà la possibilità appunto di conoscere pagine di storia locale e non solo che finora non erano ancora conosciute. Zeno Colò tra i personaggi storici della regione toscana. Quindi in questa serata dove verrà assegnato l'annuale premio Una vita per la montagna Memorial Gaetano Coppi scopriremo anche una targa che il consiglio regionale dona a Zeno Colò e che verrà posta dentro il museo dello sci di Abetone. Tra le manifestazioni del calendario dell'anno di Abetone Cutigliano Città Toscana dello Sport 2022 la nuova edizione del Memorial Gaetano Coppi Premio Una vita per la montagna evento che assegna una onoreficenza a personaggi il cui operato abbia aggiunto valore alla promozione del territorio montano e che ricorda il compianto di illuminato presidente della Federazione Italiana Sport Invernali dal 2000 al 2006. Premiati Luciano Seghi e Lino Zani oltre a Zeno Colò che riceve il premio alla memoria in occasione del settantesimo anniversario della medaglia d'oro all'Olimpiade di Oslo ricorrenza che è stata celebrata anche con la posizione di una targa al museo dello sci di Abetone nato per valorizzare le risorse ambientali, artistiche e culturali della montagna pistoiese. Credo che Abetone possa assolutamente avere il nome e avere la possibilità di fare un premio come Una vita per la montagna perché Abetone è la montagna, è la montagna in Italia e la montagna anche nel mondo perché ha fatto sì che nascessero tantissimi campioni nella nostra località pertanto credo che un abbinamento meglio di questo non ci potrebbe essere. Oltretutto oggi andiamo a premiare anche un simbolo perché ha unito quello che è stata l'attività sportiva con quella che è stata l'attività imprenditoriale ed è un simbolo anche perché il premio, il memorial Gaetano Coppi che oggi viene assegnato a Luciano Seghi è ancora di più significativo. Luciano è stato grande amico, grande compagno nelle gare agonistiche ma anche grande compagno nell'attività imprenditoriale perché insieme a Gaetano Coppi ha aperto la seggiovia del Pulicchio e per molti anni ne è stato appunto sempre assieme a Gaetano il principale motivatore, il principale esponente per cui veramente oggi credo che Abetone premi un personaggio che ha assolutamente rilevanza. E poi insieme a lui Lino Zani Lino Zani è stato il maestro di sci di Papa Voitiva è oggi uno dei volti della montagna avendo e conducendo il programma a linea bianca e poi è stato direttore della fondazione della montagna e è la montagna anche lui per cui migliore giornata per premiare due personaggi di questo tipo oggi a Abetone non poteva esserci. In Consiglio regionale la consueta conferenza per i scambi di auguri di buone feste è stata occasione di parlare dell'anno appena trascorso ecco quanto affermato dal Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. È stato un anno come per tante famiglie e tanti cittadini, un anno di luce e di ombre è stato l'anno in cui pian piano stiamo provando a uscire dalla pandemia che ha segnato la vita di ciascuno di noi ma è stato anche l'anno purtroppo in cui è scoppiata questa terribile guerra in Ucraina che ha segnato la vita di tante donne e di tanti uomini però è stato anche un anno in cui ci siamo presi il compito di cercare di ripartire i problemi aperti sono tanti penso alla questione legata al caro Bollette penso alle tante troppe morti sul lavoro che ancora oggi scuodono le nostre coscienze penso alla necessità di offrire più diritti a chi oggi non ne ha, dare più voce a chi ha meno voce insomma da parte nostra l'impegno di cercare di lavorare nella direzione di mettere in campo come abbiamo fatto anche in quest'anno perché insomma a me piace ricordare due o tre leggi tra tutte la legge che ha istituito lo psicologo di base è nata dall'esperienza di questi anni molto complicati e mette a disposizione di tutti una figura che può supportare dal punto di vista mentale oppure penso al progetto Rigenerazione Urbana con cui noi con i risparmi dei costi della politica mettiamo a disposizione delle ragazze e dei ragazzi più giovani la possibilità di disegnarsi un pezzo della loro comunità oppure le comunità energetiche e tutto questo è in linea con la nostra idea cioè giovani, ambiente, lavoro insomma qui ci sta un pezzo dell'idea di Toscana che abbiamo sviluppato in questo tempo e quindi io voglio ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi per il lavoro che hanno portato avanti senza nessuna differenza di colore politico pensando sempre ai bisogni dei cittadini e delle cittadine della Toscana Quali le priorità per l'anno 2023? Le priorità devono essere quelle che per noi sono un po' la bussola del lavoro già in questi anni lavoro, ambiente, formazione in linea con quello che è stato il lavoro anche di quest'anno vorrei però prendere un impegno che è anche un modo per fare gli auguri alle Toscane e ai Toscani un impegno insieme a tutti gli altri eletti nell'Assemblea Legislativa cerchiamo di costruire le condizioni perché nel prossimo anno mettiamo sempre più in campo proposte di legge che poi si trasformano in legge per offrire più diritti e più opportunità soprattutto ai giovani e alle donne e in arrivo la proposta con cui finalmente metteremo a disposizione delle giovani coppie l'asilo nido gratuito sotto un certo livello di sé questo sarà una delle prime iniziative in questa direzione questa deve essere la strada da tracciare nei prossimi anni e poi fare in modo che la sanità arrivi sempre più vicino ai cittadini con un impegno che un bimbo che nasce nel paese più periferico della nostra regione abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze conferenza dove si è parlato anche di lavori consigliari che in queste ultime ore vedono emergere vere contrapposizioni tra vari gruppi di maggioranza e minoranza questo è il commento del governatore Gianni se i mille emendamenti sono sostanza di cose migliorative benvengono noi ci staremo fino al 31 di dicembre a esaminarli con grande dovizia e grande attenzione se vogliono essere ostruzionismi ma che delusione da un lato a Roma si dice che si è forza di governo e poi sui livelli dove non si governa ci si riduce all'ostruzionismo veramente manifesterebbero un volto assai discutibile agli occhi degli italiani Che bilancio arriva in Aula Presidente? Bilancio forte di investimenti la parte corrente passa da un miliardo e due a quasi un miliardo e tre ma contemporaneamente un bilancio che vede il fondo sanitario regionale offrire 7 miliardi e 593 milioni le integreremo con fondi regionali e offriremo un sistema di welfare che sicuramente basta vedere l'agenzia Agenas che è il supporto ufficiale del governo ci testimonia come uno dei sistemi sanitari d'eccellenza un bilancio che guarda alla Toscana diffusa i tre più grandi investimenti sono sull'ospedale di Livorno 195 milioni i quasi 300 milioni per la Darzia in Europa sempre a Livorno che dà un salto di qualità al porto che è la porta della Toscana con interventi sulle infrastrutture anche lì quasi 200 milioni per quel tratto di ferrovia che da Pistoia possa portare fino a Lucca e qui parliamo degli interventi della regione che si uniscono agli ospedali a lavori per l'ospedale di Pisa, Cisanello e gli altri ospedali, case comunità ospedali di comunità, distretti della Toscana ma poi una politica di welfare che vedrà risorse per il piano del lavoro che abbiamo recentemente sottoscritto il piano della scuola con l'inizio a settembre di quello che è la volontà di portare negli asili nito gratuitamente i bambini delle famiglie con un reddito sotto i 35 mila euro e con la possibilità di legare tutto questo a politiche per i piccoli paesi centri della Toscana diffusa che nel bilancio abbiamo con molta accuratezza sostenuto Grazie a tutti Grazie per la visione!